Una stagione di eventi eccezionale, quella appena passata per Destinazione Fano, nutrito carnet di feste ed eventi culturali e musicali messi in piedi dalla Proloco di Fano in collaborazione con il Comune, che ha portato all'usinghiero risultato di oltre 93.000 presenze. Grazie al mix di eventi suddivisi tra feste campagnole, serate alla BCC Arena ed eventi culturali, che quest'anno ha riportato anche la tanto voluta Fano dei Cesari, che ha investito però la Proloco di una grande responsabilità, ma che ora, a bocce ferme, attraverso il suo presidente, esprime grande soddisfazione. Più che soddisfatto, soddisfattissimo per una stagione che è stata piena, in cui tutte le 40 associazioni che fanno parte di questo gruppo si sono espressi a massimi livelli. Abbiamo voluto chiudere questa stagione estiva con uno slogan, quando ne fai parte ci metti il cuore, perché questo è un po' il senso delle nostre associazioni, ovvero fare parte di un progetto e metterci il cuore e far diventare anche le cose più piccole è veramente una cosa grandiosa. Quindi io direi una massima espressione, un culmine raggiunto quest'anno veramente importante per tutte le associazioni della città. 40 le associazioni coinvolte con oltre mille volontari che danno anima e cuore per organizzare al meglio ogni evento nella città, costituendo un unicum che, anche seppur destando alcune considerazioni fuori dal coro, ha una sola parola vincente, sinergie. Qui abbiamo un popolo, un esercito di gente di buona volontà che sa mettere il cuore oltre l'ostacolo e i risultati si sono visti. Quest'anno è stata un'estate straordinaria, direi un anno straordinario, con una serie di eventi, tutti veramente molto riusciti e molto partecipati. Un rapporto abitanti e associazioni a Fano che rappresenta un'eccezionalità in tutta la regione Marche, ma che visti i risultati che ne consegue potrebbe essere addirittura un modello da esportare anche a livello nazionale. Gli anni che sono passati hanno consentito, soprattutto in questa stagione, di perfezionarci. Chiaramente non siamo contenti, miriamo sempre più in alto, ci saranno migliorie sia nella programmazione che nell'accoglienza e questo avviene quando c'è un rapporto di dignità, di riconoscimento dei ruoli che c'è a Fano. Quindi, bando alle strumentazioni, guardiamo i risultati per la città, una città che cresce, una città che si diverte in modo sano e che attira sempre più turisti.